Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, firma l'ordinanza per la didattica a distanza. Da domani, sabato 27 febbraio, andranno in dad al 100% tutte le scuole superiori della regione e in provincia di Ancona e Macerata anche le seconde e terze medie. Obiettivo ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale alla luce dell'andamento epidemiologico in evoluzione che segnala, a partire dalla provincia di Ancona ma anche negli altri territori, un incremento dei contagi da coronavirus nelle fasce d'età giovanili. L'ordinanza, la numero 6 del 26 febbraio 2021, sarà valida a partire da domani, sabato 27 febbraio, fino al 5 marzo, giorno di scadenza dell'attuale DPCM. Resta garantita la possibilità di svolgere la presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Un provvedimento necessario per contrastare la diffusione del virus in ambito scolastico e nelle classi di età maggiormente colpite, intervenendo nelle province in base alla differente intensità di incidenza rilevata nelle diverse fasce di età. L'incidenza è maggiore nella provincia di Ancona e Macerata, specie nelle classi di età 11-13 anni e 14-18 anni. Tuttavia, fanno sapere dalla regione, si segnala anche nelle restanti province un deciso incremento dei contagi nella classe 14-18 anni. Da questo si è reputato necessario l'intervento su tutto il territorio regionale. Nel provvedimento viene disposta anche la proroga fino al 5 marzo, scadenza dell'attuale DPCM, delle ordinanze già in vigore, che dispongono i limiti di spostamento in entrata e in uscita nel territorio provinciale di Ancona e le restrizioni per i 20 comuni in zona arancione dell'Anconetano.